Allora stavo facendo i complimenti allo scenografo per il grande lavoro che ha fatto qui, che è perfetto. Vedi gli oggetti? Ogni cosa vive di luce propria. Parafrasando quel libro che non ho letto, si potrebbe dire che qui ogni cosa è illuminata. Bene, mi fa piacere. E quindi? E quindi non farei niente. Come non farei niente? No, cioè, terrei le luci interne, no? Diegetiche, politiche. Cinema poetico-politico. Fa vedi? Eh, biascica, apri e accendi le luci diegetiche. Diegetiche? Tiè, diegetiche. Mi piace. No, adesso però vai a fare il set di Francesco Campo, per favore. Devo dire che anche lì lo scenografo... No, è a Duccio. Da, era una provocazione. Per farti capire quanto mi è piaciuta la scenografia. Dai, dai. Dai. Duccio. Oh.